bello appanzato, tua moglie, c'è riservi, guarda, prendi posizione, capito? 1, vai! Oggi giornata riprese foto e video, ci troviamo negli studi di Tele Lombardia. Pronto? Inizieremo scattando qui e scatteremo sul tetto. Stiamo montando e preparando cose con una sorpresa finale. Sto facendo il budget qua, stessa scelta. Signore e signore, buonasera, sono venuti a trovarci in modalità. 1, 2, 3, 4, comincia lo show, scarica di colpi, sullo schermo scriverò, mi da bene, domani non ci sarò, avanti un altro. Non ci sarò, non ci sarò, ma. Non ci sarò, non ci sarò, non ci sarò, ma solo 65 heeft, abbiamo scelta il bully.